L'Abruzzo ottiene buoni riscontri per la raccolta differenziata, anche se dalle analisi dei numeri viene fuori una regione spaccata con territori che toccano livelli di eccellenza e altri che sono al di sotto di parametri di positività. Nella regione infatti il 65% dei rifiuti urbani vengono differenziati a fronte di una media nazionale del 63, numeri relativi all'anno 2020 e che emergono da un approfondimento tematico recentemente pubblicato di Abruzzo Openpolis, progetto di fondazione Openpolis, Etipubblica, fondazione Abruzzo, Gran Sasso, Science Institute e Starting Up. Un dato che colloca l'Abruzzo al non opposto a livello nazionale, la migliore regione di tutto il centro-sud dato che peraltro, quello del 65%, dal 2006 è quello fissato come obiettivo da raggiungere a livello nazionale e col quale nel nostro territorio si è dunque in linea. Tra le regioni del centro-nord, la Toscana e alle spalle dell'Abruzzo al momento sembrano invece irraggiungibili le performance di Veneto e Sardegna dove i tre quarti dei rifiuti urbani sono differenziati. Un divario, quello tra regioni del nord e del centro-sud, si legge nel rapporto, su cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede di intervenire con un insieme di investimenti e riforme del valore di 2,1 miliardi di euro. L'avvento della pandemia ha generato una flessione nella produzione dei rifiuti urbani da oltre 30 milioni del 2019 a 28,9 milioni di tonnellate del 2020, meno 3,59%. Calo più contenuto in Abruzzo da 600.000 a 585.000 tonnellate, meno 2,5%. All'interno della regione le prestazioni migliori arrivano dalla provincia di Chieti, 74,55%, e da quella di Teramo, 68%, poi quella dell'Aquila, 61,87%, e quella di Pescara, 54%. Nella città di Chieti si è registrato il 71,16%, miglior comune tra quelli capoluogo. Un primato in crescendo, ha commentato l'assessore all'ambiente del comune, Chiara Zappalotto, il trend è sempre positivo, segno che la comunità bene conosce il valore del patrimonio cittadino e che collabora fattivamente alla tutela del decoro e alla pulizia. Con Formula, conclude l'assessore, abbiamo potenziato il servizio con maggiori isole e con una risposta più dinamica anche alle istanze che ci arrivano dalla città. In tre centri del Chietino si va oltre il 90%, Villa Santa Maria, Santa Maria in Baro e Borrello. In 49 comuni abruzzesi si raggiunge l'80%, 39 sono del Chietino. Bene anche il comune di Teramo con il 69,55%, sotto il 50% Pescara, 47,68% e l'Aquila, 39%. Considerando i comuni non capoluogo, con oltre 25.000 abitanti, superano il 70% di differenziata Avezzano, Lanciano, Vasto e Roseto degli Abruzzi, quota di poco inferiore per Francavilla al Mare, 68,48%, mentre più distante Montesivano, 35%. I dati più bassi in assoluto si registrano in alcuni centri dell'Aquilano, intorno o sotto il 10%, in particolare nell'Alta Valle dell'Aterno, Monte Reale, Capitignano e Campo Tosto.